ma anch'io l'ho fatto i nuovi l'hai visti ai ritti anch'io l'ho fatto i nuovi ma l'hai visti i miei ora ti sto sto prendendo il profilo vai da un modo c-life pure tu non farmi capire di solo perché non voglio questo gioco è un gioco del telefono a mai roblox la roblox pk xd no nell'altro profilo mi pare che ci siano altri video nuovi nuovi tu mi hai scioppato l'ultimo ballo ah te lo ricordi quello la quando avevo quando avevi fatto la macchina te lo ricordi quale? quella la macchina e carte quando avevo sbagliato no che cosa? quando mi avevi dato il kart? vabbè vabbè lasciapendo quando tu mi avevi dato il kart tu mi avevi dato il kart? il kart? il vokart? che cosa è il kart? il vokart quello la della macchina sì no tu te l'hai scioppato però cioè adesso ne avevo 600 qualche cosa adesso ne ho 950 come mai? perché praticamente ti hanno dato i 200 mil bucks della scorsa season te l'ho detto dovresti prendere la skin quella di natale tu hai detto quella di natale a seconda della compro quando tu smetti di dire mi compri la skin ugogogogogogogo ripetendo i miei palletti ciao iamo ma io sono allunito mi pare ho fatto ok facciamo un dig to con questo suono fai un ballo file user quella la closer ma l'hai preso già si non ho preso mica da tutto parco dai fallo aspetta aspetta devo cercare ma ora vediamo che cosa c'era la sciacqua li puoi vedere tu si l'ha visto già aspetta che ti danno c'è quella skin che avevo io quella che mi avevi dato a me te la ricordi forse l'avevo shoppata io non mi ricordo tanto tempo fa quella la beardy quella la che c'ho anche io carico di video quella la tutta rosa la skin tutta rosa guarda ti ho mandato un video ti ho dato nel corso ok ma c'era skin natalizia che ti piace a te di 800 ne rischio ghiaccio no non è rischio ghiaccio scherzi che una battuglia d'ora e bing pigna ma no 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 bella questa ranger me la puoi donare a me quella di natale questa qua ranger naso rosso e 800 e 800 è bellissimo dai che poi appena ho 100 v bucks già un po' di shop qualcosa e allora lo sai cosa fai più tardi? ti voglio fare la ricarica e mi scioppi disturbatore festivo ma dov'è? con la là disturbatore festivo però quella la con i capelli aspetta ti mando la foto ma io volevo vedere la giornata rosso questo qua eh te lo scioppo però tu mi devi promettere che più tardi ti fai la ricarica e mi devi scioppare e non lo so se me la posso fare per la ricarica perché già ho perso tutti i soldi per la switch questa qua è vero ma siamo poi pure siamo domani i lega boccati sono chiusi vabbè lo puoi fare poi in otto giorni ma aspetta la crio di fortnite qua 8 gennaio 2021 quando arriva sta cosa? si torna mi levi bacco 8 gennaio e quando è? da pochi giorni? nooo ancora voglio a 2021 dobbiamo aspettare e a natale? si dobbiamo surpassare il natale e il cavolanno per aspettare i legati fa che meccata guarda senti che bella? si vabbè allora la puoi scioppare direttamente perchè tanto poi per natale ci sono le box c'è ne ha 800 poi il cuore natalizio è 12 minuti e 12 secondi 12 minuti e 12 secondi questa qua natalizio è Ranger il naso rosso costume questa qua non vabbè non vabbè non vabbè non vabbè guarda guarda le skin natalizie quando tu prendi la schermata ci sono tutte le tue la neve che cade si lo so bellissimo ti mando l'audio di questa musica Gabri questa qua guarda si aspetta ma io già ce l'ho questo si ho fatto il video guarda però che bella che bella questa skin ranger nasolosso guarda che video ti ho mandato guarda che carino no credi va no Grazie a tutti. 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 Tatti. a tutti. a tutti. forse le vecchie mappe si si singolarizzano tutti quanti insieme vengono tutte le vecchie mappe forse quando ci sono i portali forse ti riporto a pinnacoli c'era un posto qui da me ho trovato quello meschini sbloccata avanti non sto scherzando chiede si fiume 4 da non un posto c'è scritto ora è così perfetto qua c'è tutto un posto ho trovato ottimo direi c'ho l'aereo si ci vuole la benzina qua sto arrivando la benzina qua sto scaricando sto arrivando però eccomi sono io c'era scritto elimina strutture si ma elimina strutture ma non quelle mie la benzina si è scaricata aiuto hai fatto brutto mi stanno ammazzando non mi stanno ammazzando siamo ricchi bravo bravo CHIERICI oh che cazzo CHIERICI CHIERICI ma CHIERICI 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 NOOOOO MAH ma CHIERICI brutto mega ruttale io ti chiamavo mio caccio mi chiamavo 62 ho fatto io ho fatto in Francia io ho fatto Giuro, mi stai odiando in questo momento, lo so, ma non cantare, cioè per me non cantare è giustizio, perché viene proprio spontaneo. Oh, canta, canta, canta di basso, canta di basso. Ok, ciò qui ho. No! ho fatto tutti quanti volevo ammazzare tutti quanti mi dai colpino e bomba mi ammazzano colpino e bomba ora lo sai colpino e bomba tiene uno e due c'è un regalo gigante qua c'è un regalo gigante due coppie di bomba questi ce ne ho anche due i materiali non li vuoi senza materiali stiamo qua siamo in questa casa non si abbandona un amico stanno spaccati i regali no non siamo un regalo noi poi a natale lo apri c'è qualcuno qua no siamo un regalo qua usciamo? lo sto sfogando no no buon natale ludovica buon natale buon natale si lo so aiuto si 하 che mi trasforma si ma il trasformatore e io sono un pazzo di neve non ti preoccupare sono ammucciato non sono un giocatore sono bufazzo bufazzo di neve c'è da ciò che c'è un giocatore qui abbiamo ammazzato l'ultima volta mi stava ammazzando con il torbazzuga mi stava ammazzando ci hanno messo la benzina anche su sto cagato testa di cazzo datemi a me questo c'è un cecchino c'è un cecchino si qua avevamo aperto un aerodroppolo c'è un cecchino d'ora io ma è viola che cazzo vuole questa già si sta inquadrando le mette se il cazzo vuoi ma si mette vicino a me guarda si vedono le mine ma perché non te lo do il cecchino e perché io gli do il cecchino e lo vuole indietro guarda guarda ehi è nuda è un buon copri di scusa tieni lo vuoi il cecchino prendi subito figati quella quella ancora vuole si sta cercando a me qua e qua e qua e le zinne aia babbo natale mannaccia babbo natale aia babbo natale mannaccia babbo natale mannaccia di switch avala switch io voglio più di cecchino ce l'ho io che pranzi seda aia 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 le mosche seconda in grossa aia 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 sono andando nel lobby aia aia stefania sposa mi sposa mi chi è no stefania perché dice che stai insieme a sentire billy eilish e ci piace ma non mandi la skin che poi così a meno poi quando tu mi fai la ricarica di shop pappa aspetta ma tu ti potessi fare la ricarica del session plus così ci giochi a gta 5 io voglio che ci vediamo se usciamo fuori ci mangiamo qualche cosa da paolo io ma da mia mamma che lo dico cosa e che significa non avete il covip negativo polo positivo negativo negativo i negativi però la delle qualche fotografia io lo puoi scrivere tu vabbè poi poi lo scrivo aria aria bello ecco mamma mia pazzerello dopo un cecchino fucile fucile cecchino bellissimo poi votato no fucile cecchino picchiai poi facciamo animal crossing poi vengo io e ci vediamo alla villa ma ha detto mia mamma ci possiamo vedere fuori con la mascherina che così ha detto così mamma se proprio proprio ci dobbiamo vedere con la maschina tu vieni con tua nonna e ci vediamo da qualche parte ecco ci ha detto se non ce ne abbiamo non è che va bene quando siamo in negozi la mattina ma alla villa eh però dico se andiamo nei negozi io potrei invitare i miei cugini potrei invitare a casa mia no 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 i miei cugini potrei invitare perché sono cugini come tu hai tuo cugino angelo ah ah pensavo che potrei invitare i cugini fuori da noi lo dico allora per me tra di noi possiamo stare senza mascherina ma quando sono nei negozi con la mascherina perché quando siamo nei negozi c'è non più persone quindi per me allora ah no perché non perché ho un paio di posti conto mamma qua ci vediamo qualche cosa non dico che vieni qua dico ci facciamo passaggiare da qualche parte ma se non muore tu mamma ma non è che ci ho il cecchino non lo vuoi ah non lo vuoi no no il cecchino non lo vuoi non è che c'è 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 il mountain non vuole non è che non possiamo aspettare ah ci possiamo spostarvi dico per uscire fuori si si può fare ma se vieni qui da merito il cecchino è un cecchino fucile da precisione bot rimango qui a cecchino e tutti quanti siamo risultati vabbè poi ci vediamo ci vediamo qualche volta oggi non si possiamo vedere oggi tipo ci andiamo fuori da qualche parte e se vengo io non vuole perché forse siamo fuori fuori ma forse siamo a fare la spesa ci vengo con voi ma non so se me la no se io dici mi dice può venire con noi tu mi hai detto che andavamo a prendere cose di natalizie ma se tu me lo vuole ma se tu me lo vuole io ci devo fare c'è proprio in questo periodo da quando mi hanno detto che non c'erano da quando mi hanno detto che non c'erano sono distrutta a tavola cosa a tavola tende a mangiare io spengo fortnite però non abbandonare no no lascialo acceso con senza muto merda ciao ciao Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Grazie a tutti.